Cosa spinge un uomo ad avventurarsi per strada in piena notte, al freddo e sotto la pioggia battente, per di più dopo essersi appena fatto la doccia? L'amore? Un pericolo? Un crimine efferato? O peggio ancora, un gatto? La lettura di oggi dura cinque minuti e mezzo. Spero vi divertiate ad ascoltarla, almeno quanto io mi sono divertito a leggervela. Ma prendete fiato, ci sarà da correre. State ascoltando Perfetti Sconosciuti, un podcast dove il piacere di leggere incontra il piacere di scrivere. Io sono Claudio Di Filippo e in ogni puntata sceglierò un testo scritto da voi e gli darò voce per farlo conoscere al nostro pubblico. Ma scopriamo subito il perfetto sconosciuto di oggi. Buon ascolto. Ci penserà il gatto di Maurizio Chierchia. Legge Claudio Di Filippo. Lo sapevo che finiva così. Io l'ho ripetuto mille volte che non so badare al gatto. Deve essere lei a occuparsene e soprattutto a farlo rientrare quando scorrazza in giardino. Non posso mica stare ore con le crocchette in mano a gridare ciccio come se non ci fosse un domani fino a che il principino non decide di rincasare. Ma che sono io il suo maggiordomo? Beh, nonostante gliel'abbia detto e ridetto non mi ha ascoltato e a sto giro il principe ha deciso di andarsi a fare un giretto in paese in piena notte con un temporale che fa passare la voglia di uscire anche alle nuvole. Ma come gli è venuto in mente? I gatti non odiano l'acqua e il freddo? Ci sono tre gradi sotto zero e questo preferisce le pozzanghere al divano. Voglio capire gli animali. Fatto sta che ora tocca andare a riprenderlo. Metto l'impermeabile la sciarpa e mi fiondo fuori casa col cellulare in mano. Al primo passo mi si congela il naso. Al secondo inizio a lacrimare per il vento che mi sbatte in faccia. E al terzo mi domando perché lo sto facendo? Perché sennò quella mi ammazza. Unica risposta a tutti perché lo faccio degli ultimi sette anni. Ho solo tre ore di tempo dopodiché sono fottuto. Se torno a casa lei prima di me posso dichiararmi morto e fuggire a Timbuktu. Attivo la torcia del cellulare e punto la luce sotto un paio di auto ma del gatto non c'è traccia. Controllo a destra e a sinistra sotto ogni macchino cassonetto. Scruto ogni angolo della via che porta alla piazza. Il nulla totale. Neanche un topo da tingere di nero per farlo assomigliare a Ciccio. Ciccio? 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 Vieni qui bello? Maledetto me che non mi sono portato neanche dei croccantini e maledetto me che non ho chiuso la dambetta cantaiola prima di farmi la doccia. Già che ci sono maledetto me che mi sono fatto la doccia e poi sono dovuto uscire per infangarmi di nuovo. Che serata di merda! Da sopra un muretto a qualche metro di distanza una sagoma si muove indisturbata. Quando incrocio il suo sguardo con il flash del telefono gli occhi si accendono come fari. Che sia lui? Ciccio? Sei tu bello? Vieni qui? Dai su che andiamo a casa. Mi avvicino cauto senza fare movimenti bruschi. Non capisco se si tratti di un altro gatto ma dubito che gli altri siano in giro con sto tempo. Accorcio la distanza tra noi. Passo dopo passo gli arrivo a un metro. Posso distinguere il pelo nero che riflette la luce bianca della torcia. Devo afferrarlo e sperare che non scappi. Ok io non lo strangoli. Con un gesto rapido del braccio tento di placcarlo ma lui è più svelto di me. Senza pensarci troppo mi salta in faccia artigliandomi come un forsennato. Mi divincolo e provo a strattonarlo con la mano libera ma così come mi ha saltato addosso altrettanto in fretta se ne va. Soffiando e sibilandosi di legua nella notte inoltrandosi per le vie del centro. Mi tocco il volto. Ho la vista appannata. Quel maledetto mi ha ferito l'occhio destro. Non riesco ad aprirlo. Fa un male cane. Il sangue si raffredda in fretta sulle guance e provoca ancora più fastidio. Bastardo. Ti giuro che se ti prendo ti cucino in forno. Controllo l'orologio. Meno due ore alla mia esecuzione. Vuoi il gioco duro? A noi due allora. Infilo il telefono nel taschino dell'impermeabile in modo da avere la torcia puntata di fronte a me. Mi butto all'inseguimento tra le viuzze che circondano la piazza. Svolto due, tre, quattro vie e lì, tra il negozietto di scarpe e la gelateria, lo vedo. Non mi interessa se hai quattro zampe o diciotto. Giuro su Dio che ti prendo. Parto alla rincorsa. Saranno dieci metri ma non mi importa. Correrò per tutta la notte se dovesse servire. Ma riprenderò quel fottuto gatto. Preda delle mie convinzioni. Realizzo solo dopo un chilometro che quattro zampe sono meglio di due e che quattro zampe oltre che a correre meglio ti aiutano a superare meglio anche gli ostacoli. Immagino tutto questo mentre scivolo all'indietro su un san pietrino. Sbatto la nuca con l'unico occhio buono vedo le stelle che mi girano intorno. Ho tirato una botta fortissima. Oltre alla testa ho picchiato sulla schiena e le gambe non danno segno di vita. Non sento male. Semplicemente non sento niente. Non sento più le gambe. Cerco di restare lucido. Per fortuna sono sveglio e cosciente. Prendo il telefono dal taschino e inizia a squillare. Cazzo! Pronto? Pronto amore dove sei? Come mai non sei a casa? E adesso che le dico? Ascolta cucciola devo dirti una cosa. La pioggia copre la mia voce. Cosa hai detto? Non ti sento. Ho detto che devo dirti una cosa. Ho fatto un casino. Amore io non ti sento. Tra la pioggia in sottofondo è Ciccio qui che chiede le crocchette e non ci capisco niente. Me lo dici quando arrivi ok? E butta giù. Aspetta! Ciccio chiede le crocchette? Come un idiota inizio a ridere con il gatto che ora mi sta leccando le ferite. Quel bastardo di Ciccio se ne sta al caldo a godersi la cena e io qui con un randaggio a cui piace il mio sangue. Alla fine perché lo faccio? Perché se no lei mi ammazza e se non lo fa lei ci penserà il gatto. E questo era il perfetto sconosciuto di oggi letto da me. Per saperne di più trovate un profilo dell'autore e alcune note sul brano nella descrizione dell'episodio. Continuate a mandare i vostri testi originali, pagine di diario, poesie o racconti brevi all'indirizzo perfettisconosciutilpodcast.gmail.com. Specificate un titolo, il vostro nome o uno pseudonimo e se volete anche una dedica. E non dimenticate di condividere il podcast e di passare parola. I prossimi perfetti sconosciuti potreste essere voi. Alla prossima puntata!